La poca partecipazione dei sindaci valdianesi ai dibattiti che si sono svolti in questi giorni sulla progettazione delle due dighe di Casalbuono e Montesano hanno spinto Beniamino Curcio, presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, ente che ha predisposto il progetto per l'ottenimento di 2 milioni di euro di fondi, a sollecitare una più ampia partecipazione al progetto, ricordando come, trattandosi di opera di grande rilevanza per il territorio, necessita del maggiore coinvolgimento possibile, puntando ad apportare benefici a tutto il comprensorio, in particolare per la funzione che le dighe dovranno svolgere nella laminazione dei flussi d'acqua verso il fiume Calore Tanagro, al fine di ridurre i rischi alluvionali in tutti i comuni della Piana, e per la funzione di bacino di accumulo per trattenere l'acqua durante i periodi di piena e distribuirla quando si verificano i periodi di siccità. Un progetto dunque importante per l'intero territorio valdianese del Tanagro, che per Beniamino Curcio rappresenta una grande sfida, che deve però necessariamente essere condivisa al fine di poter raccogliere ogni possibile suggerimento utile a far sì che l'opera possa ricoprire il ruolo strategico assegnatole. Il presidente del consorzio ricorda come, oltre alla gestione delle acque, le due dighe potrebbero anche essere utili per produrre energia idroelettrica, garantire il deflusso ecologico del fiume Calore, sempre più a secco durante i mesi estivi, per finalità antincendio e per uso turistico ricreativo ed altro. Nella consapevolezza dunque che da soli non si va da nessuna parte, il presidente Curcio con una nota chiede la maggiore partecipazione, in particolare dei sindaci che meglio conoscono le loro realtà comunali e che potrebbero dunque contribuire a migliorare il progetto e renderlo più funzionale all'intero comprensorio. Un coinvolgimento che però nei dibattiti pubblici dei giorni scorsi è venuto a mancare, vista la sola presenza dei sindaci dei comuni interessati e del sindaco di Sala Consilina Cavallone, presidente anche della comunità montana Vallodidiano. Non dire niente, dichiara Curcio, in ordine alla necessità ed utilità della nostra iniziativa, ma eventualmente anche in ordine alla inopportunità della stessa, certamente non aiuta. Abbiamo deciso come consorzio di misurarci in una sfida difficile, complessa e per certi versi destinata a scuotere territori, comunità e opinione pubblica. Ma una cosa è certa, non stiamo progettando opere che servono solo al consorzio di bonifica o ai comuni di Casalbuono-Montesano. Noi stiamo pensando ad opere che servono a tutto il territorio. Ecco perché, continua Beniamino Curcio, a mio avviso i primi che dovrebbero fare il quadrato attorno alla nostra iniziativa e dare una mano per farla sposare alla politica sono proprio i sindaci. Da qui l'invito affinché nel prossimo ed ultimo incontro pubblico, in programma mercoledì 17 aprile alle ore 10 a Padula, presso il centro operativo del consorzio di bonifica, possa essere presente un numero più significativo di partecipanti, partendo proprio dai primi cittadini del territorio.